Tratto dal celebre caso editoriale del 1897. Confrate il giornale di oggi! Papà, Babbo Natale esiste davvero? Virginia, sei iscritto sul Sun. È vero. E vi che cosa faremo per Natale? Non preoccuparti di questo. Patrimonio delle più grandi tradizioni natalizie. Forse è il compito più difficile che ti abbia mai assegnato. Roba grossa, molto grossa. Il film? Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. Domenica alle 21.20. Domenica alle 21.20.